Avete mai sentito parlare di ansia da ricarica? Beh, è legata all'utilizzo effettivo di un veicolo elettrico. Ma è davvero fondato il timore di restare senza carica? Ne parliamo direttamente dal plant di FPT Industrial a Torino con Martina Gargiulo di Gay. L'autonomia dei veicoli elettrici è da anni oggetto di miti e leggende. Abbiamo letto di fake news legate a mezzi fermi nella neve o di articoli che mettono in dubbio l'autonomia dei mezzi o delle batterie, che durerebbero meno di due anni. Fortunatamente la realtà dei fatti è molto diversa e ben lo sanno le persone che, come me, sono passate alla mobilità elettrica già da qualche anno. Indubbiamente l'utilizzo dei mezzi elettrici ci impone una diversa pianificazione del loro utilizzo nel tempo. Ma gli strumenti oggi a disposizione degli EV drivers sono tanti e tali da rappresentare una valida alternativa ai mezzi tradizionali e un reale passo avanti in termini di efficienza e costi di gestione. Parliamo di piattaforme che permettono di pianificare il percorso, di individuare i punti di ricarica sul territorio, di calcolare il biberonaggio dei mezzi e la loro ripartenza, oppure di sistemi di fleet management che massimizzano l'efficienza della flotta elettrica. La parola chiave è flessibilità ed è per questo che Iveco ha dotato il proprio ideli di una configurazione modulare delle batterie, dando una capacità dai 37 fino ai 111 kWh di potenza. Questo per rispondere insieme a Gate alle esigenze di molteplici clienti B2B, sia di coloro che devono affrontare percorsi urbani, magari consegne di ultimo miglio, sia di coloro che affrontano percorsi interurbani e necessitano quindi di una maggiore autonomia del mezzo. Grazie a tutti!